Allora, vediamo oggi la tavola 44 e proviamo a fare una assonometria isometrica di un oggetto di uso comune, che in questo caso è una chiavetta USB. Esistono effettivamente diverse chiavette USB che hanno proprio questa forma. Allora procediamo come sempre, nel senso che realizzeremo la nostra tavola in verticale, dividendola a metà, mettendo nella parte superiore la proiezione ortogonale dell'oggetto, nella parte inferiore la assonometria isometrica. Allora procediamo in questo modo. Vediamo prima di realizzare, quindi per conoscere anche le misure esatte, l'oggetto chiavetta in proiezione ortogonale. Allora come possiamo vedere questa chiavetta di fatto? Si tratta di realizzare due parallelepipedi, uno più grande che è il corpo della chiavetta, uno più piccolo che è, diciamo così, l'attacco dello spinotto USB e poi dopo arrotondare questo parallelepipedro più grande facendo il foro che è quello per l'aggancio della chiavetta. Allora vediamo qui le dimensioni. Possiamo subito notare di come nella vista dall'alto la nostra chiavetta sarà distanziata di 0,5, quindi mezzo centimetro dall'asse Y e di 1,5 dall'asse, scusate, sì, di 1,5 dall'asse X. Quindi nella vista sul PO vedremo esattamente i due rettangoli che sono le viste dall'alto e nella vista frontale, quindi la proiezione sul PV invece vedremo proprio l'oggetto nella maggior parte delle sue dimensioni e riusciremo a vedere anche il foro che c'è. Avremo un raggio di curvatura della chiavetta esterno che è 1,50 e quello del foro interno di 1 centimetro. E poi dopo vedremo anche la vista in proiezione laterale sul PL che vedremo esclusivamente, diciamo così, due parallelepipedi visti da davanti, quindi di fatto due rettangoli. Allora vediamo come procedere. Come sempre partiremo dal PO. Nel PO noi andiamo a riportare il rettangolo di base della nostra chiavetta, quindi le misure saranno esattamente 6,75 per 1,50 con uno stacco di 0,50 e 1,50 dagli assi. Quindi realizzeremo diciamo così la base del parallelepipedo e quindi tireremo, ingrandiremo il parallelepipedo portando un'altezza di 3 centimetri. Ecco, l'altezza di 3 centimetri era quella che vedevamo qui. 0,75 più 0,75 più 1,5. Bene. E a questo punto che cosa faremo? Incominciamo a predisporre per poter fare la curvatura finale. Cioè qui dovremmo quindi andare a realizzare una circonferenza, la rivediamo in proiezione ortogonale, quindi di raggio 1,5 e quindi il centro sarà distanziato di 1,5 e 1,5 dai due lati del parallelepipedo. Allora, incominciamo a ragionare in questo modo. Conviene realizzare una circonferenza analoga, proiezione ortogonale, di fianco con le stesse misure. Quindi il raggio 1,5, quindi tracciamo la circonferenza. Poi dopo, sempre per il discorso che in assonometria esometrica non possiamo prendere le misure in diagonale ma soltanto parallelamente all'asse X, possiamo costruire una sorta di quadrettato, reticolato, quindi staccando di un centimetro faremo, diciamo, tireremo su due verticali sia da una parte che dall'altra, in modo da poter individuare questi punti che stanno a 1,12. Se voi tracciate la circonferenza e a un centimetro tirare su una linea vi renderete conto che è 1,12. Adesso chiaramente noi lavoriamo con le squadrette per cui 1,12, 1,1 ecco è poco più. Allora, una volta che abbiamo individuato questi punti faremo la stessa cosa nella nostra faccia laterale. quindi individueremo il punto centrale che è a 1,5 e 1,5. Da questo punto tireremo le parallele perpendicolari in modo da ripristinare e ricostruire esattamente questa situazione qui con tutti i vari cerchietti. Quindi staccando di uno tireremo su di 1,12 e troveremo un punto. La stessa cosa la facciamo sotto, la stessa cosa da una parte, la stessa cosa dall'altra parte e poi tireremo a 1,5 l'altro punto. Allora, in questo modo noi potremo tracciare a mano libera questa figura che di fatto è un'ellisse. Eccolo qua. Quindi unendo tutti i vari punti a mano libera, vedete anche nel mio caso non è avvenuta una figura perfetta, però per l'uso che noi ne facciamo è più che sufficiente. Quindi in questo modo abbiamo rappresentato la nostra circonferenza di scorcio. La stessa cosa la facciamo dietro. Adesso non ripeto l'operazione, ma dietro è esattamente la stessa cosa. Dico subito che in questo caso non disegneremo le linee tratteggiate, ci limiteremo a disegnare soltanto gli spicoli visibili con un tratto continuo. Bene, detto questo ripassiamo con la mina F la parte frontale, la prima parte della chiavetta. Quindi ripasseremo la prima parte del parallelepipedo, toglieremo i due spicoletti che vanno fuori dalla circonferenza e così completiamo la figura. E la stessa cosa facciamo dietro? Chiaramente dietro la nostra circonferenza non sarà visibile. Tireremo questa linea che è una tangente tra le due circonferenze, quindi elimineremo gli spigoli, quindi non ripasseremo gli spigoli del parallelepipedo che vanno oltre. Ci sarà una piccola parte di circonferenza di ellisse, diciamo così, da ripassare e poi con la tangente faremo il resto della nostra figura. A questo punto dobbiamo così andare a disegnare anche la circonferenza interna, ve la faccio vedere in proiezione ortogonale, eccola qui, sarebbe questa circonferenza interna che ha raggio 1,5, quindi il centro già ce l'avevamo e possiamo insomma lavorare con il raggio di 1,5. Eccolo qua. Quindi il centro è quello che già avevamo e utilizzeremo esattamente lo stesso sistema. Questa essendo una circonferenza più piccola ho fatto degli stacchi di 0,5, quindi staccando di mezzo centimetro vedrete che l'altezza qui sarà 0,87, quindi ho fatto la stessa operazione in modo da individuare tutta questa serie di punti. E a questo punto questi punti vengono uniti, vedete anche qui essendo stato fatto diciamo così a mano libera, la circonferenza non è diciamo perfetta tra virgolette, però insomma è più che accettabile, poi l'importante è il metodo di costruzione. Quindi in questo modo abbiamo realizzato il nostro foro, diciamo così, foro interno. Adesso dobbiamo andare a realizzare la parte diciamo dell'attacco dello spinotto della nostra chiavetta USB. Ritorno alla proiezione ortogonale per farvi vedere, ecco, l'attacco sarebbe questo qua. Vedete praticamente noi nella faccia che abbiamo rappresentato dovremo andare a disegnare questo rettangolo di base interno che sarà staccato di 0,45, queste misure sono 0,45, 0,75 in altezza e il nostro rettangolo quindi sarà di 0,6 per 1,50. Allora ritorniamo alla nostra assonometria. Vedete in questa faccia ho riportato le stesse misure in modo che nel rettangolo centrale potremo far uscire fuori il parallelepipedo che a noi interessa. Eccolo qua, con la misura che possiamo sempre prendere dalla proiezione ortogonale che è di 2,25. Anche qui 25 con le squadrette cercheremo di essere diciamo così più precisi possibile. A questo punto dobbiamo soltanto ripassare le ultime linee di questo parallelepipedo finale. Eccole qua. Quindi come dicevo questi spicoli che vi sto mostrando saranno diciamo così nascosti. In questo caso non disegniamo le linee tratteggiate perché ci interessa un problema vedere l'oggetto così com'è. Quindi saranno diciamo ripassati fino a incontrare il parallelepipedo che viene fuori e tutto il resto che è nascosto non verrà ripassato. La tavola finale deve essere una cosa di questo genere. Quindi con la proiezione ortogonale sopra e con la chiavetta in assonometria isometrica sotto. Ecco provate a fare questo disegno.